Veloce, abbiamo solo un'ora per fare la ricerca. Sì, sì, arrivo. Ti osservo un po'. Non so, sì. Impossibile, questo libro non si trova. Abbiamo già cercato in quattro biblioteche. Abbi fede che qui lo troviamo. Abbi fede che qui lo troviamo. Fatalista cantante e fatalista cantante. Ma lo sai che Gini era un tipo strano ma interessante? Cioè, è sopravvissuto due volte alla morte e addirittura una al naufragio di un piroscapo. Forse con tutta quella statistica riuscivo a prevedere il futuro. Sì, sì. Certo, un supereroe. Troppi videogiochi Marvel, guardi Gio. Scusi? Ha per caso il libro corso di statistica di Corrado Gini? Ma non vorrei fare lo statistico. No, io vorrei fare la cantante. Questo è ottimo. Beh, senti, forse è qualcosa del genere. Cioè, però passiamo più una biblioteca specializzata in studi umanistici. La filosofia, la padristica, la storia dell'umanità. Però qualche cosa di statistica da queste parti è molto interessante. Ma guardate anche voi, se trovate Gini... ... ... ... ... ... ... Ma tu chi sei? Sono il bibliotecario. E come si diventa bibliotecario? Vabbè, io ho fatto lettere classiche, indirizzo bizantinistica e una tesi in letteratura premetafrastica. Me lo consigli come percorso di studio? Sarebbe meraviglioso. Studieresti l'antica scrittura greca, la paleografia, la codicologia, la formazione di fondi librati nel tardo medioevo. E no, perché le probabilità di trovare lavoro a un anno della laurea sono del 10%. E dopo cinque anni scendono addirittura al 7%. Attento, signore, che il 67% degli infortuni sul lavoro viene causato da cadute sulle scale. ... Hai visto? La statistica è una scienza. Avemmi ragione.